Il gruppo consigliare di Futuroin interviene sul provvedimento del Comune di Teramo che prevede l'inserimento di 44 bambini in più rispetto all'anno passato negli asili in Ido. Voi dite si creano posti per i bambini ma probabilmente diminuirà l'orario di apertura degli asili? Sì, quello che naturalmente diciamo noi è evidenziato dall'elenco che è naturalmente visitabile sul sito del Comune ovvero che ci sono circa 150 asterischi che praticamente segnalano che l'orario pomeridiano dovrà essere rivisto in base alle effettive disponibilità delle unità lavorative e delle maestre. Ci sono dei bambini che potrebbero tornare a casa alle 2.30 secondo la vostra segnalazione rispetto alle 16.30 o addirittura in alcuni casi alle 18.30 del passato? Certo, semplicemente è questo il discorso. Naturalmente noi ci auguriamo che l'assessore Marroni e gli uffici del Comune preposti riescano invece a trovare la disponibilità per mantenere tutti i bambini però crediamo, considerato anche gli sforzi che sono stati fatti in passato anche dall'assessore Caterina Provisiero che le difficoltà ci siano perché anche le tirocinanti che possono dare sicuramente un supporto ma non è che sarà un supporto fondamentale per poi aumentare queste ore. Dicevamo questo tra l'altro ma al di là di questa specifica problematica per la scuola e tra l'altro noi saremo i primi a settembre qualora l'orario riuscisse ad essere completo ad essere felici non solo i genitori che hanno questi bambini. Ci piace poco questo atteggiamento di alcuni assessori che fanno paragoni con il passato e magari mettendo in risalto quello che è stato fatto prima. L'assessore dovrebbe essere super partes, dovrebbe avere un atteggiamento diverso quindi questo non succede con tutti però alcuni assessori probabilmente peccano un po' con questo atteggiamento. Noi come opposizione abbiamo dimostrato fin dalla prima seduta del Consiglio Comunale di avere un grande senso di responsabilità e di fare un'opposizione come abbiamo dichiarato costruttiva. Lo abbiamo dimostrato con l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, il Dottor Melarangelo e quindi vorremmo continuare su questo atteggiamento però ecco dobbiamo capire un po' tutti di abbassare i toni come per esempio sta facendo giustamente il Sindaco perché la campagna elettorale è finita.